Ciao ragazzi, buonasera a tutti, video chiaramente non previsto ma ho voluto prendere tutto il pomeriggio per raccogliere più informazioni possibili in maniera più assoluta, cerchiamo di essere belli e chiari, ci avviciniamo al microfono perché qui la situazione è abbastanza brutta lo posso dire, è abbastanza brutta io vi invito intanto, oltre ad iscrivervi al canale e ringraziarvi per tutto il piacevole riscontro avuto in questi ultimi giorni di, mi verrebbe da dire, di vittoria ma c'è tutt'altro purtroppo e lo andremo subito a vedere di seguirmi anche sui vari social dove sono super super attivo H24, che siano Instagram, TikTok, più Instagram, sondaggi, meme, ma soprattutto informazioni in tempo reale informazioni istantanee che sono necessarie e obbligatorie in una situazione del genere visto che su YouTube a parte quell'uno barra due video al giorno la sintesi è molto meno attiva rispetto a una fonte istantanea che ti arriva non puoi andare sempre a vedere un video eccetera eccetera la situazione che, sì, a parere mio è decisamente grave decisamente grave, qualcosa che non mi sembra di aver mai vissuto in generale ma soprattutto non mi sembra mai che sia esistita mi viene in mente così pesantemente all'occhio anche di telecamera, a favore di telecamera forse la situazione di Delirossi e ora arriviamo perché qua si parla di davvero cose pesanti, cose davvero molto pesanti chiariamo subito il tutto, raccogliendo le informazioni di giornata abbiamo visto che la Juventus sta provenendo con i legali del caso alla licenziamento immediato, quindi licenziamento in tronco per giusta causa per giusta causa ovviamente si intende quello di cui abbiamo parlato questa mattina ovvero, ovvero, l'aggressione verbale e anche fisica di Massimiliano Allegri che appunto verso le ore 20 ha attivato il suo avvocato ufficialmente citando il fatto e le parole di Allegri che riportano che le parole di Guido Baciago non fossero veritiere quindi non solo non ci sono state scuse da parte del diritto interessato alla vicenda ovvero Massimiliano Allegri e sono arrivate solo dalla Juventus Incorporated quindi solo dalla società Juventus a quanto pare Scanavino abbia chiamato sia Baciago che direttamente abbia preparato il rimborso spese per, e ve lo dico con chiarezza e per il danno rilasciato, il danno effettuato da Allegri a delle attrezzi di shooting fotografici, telecamere, videocamere roba appunto abbastanza particolare che è stata presa a calci dal mister è una situazione veramente... sono triste, sono triste io non pensavo proprio a una situazione del genere vabbè lasciamo perdere le mie impressioni ma raccontarvele fa ancora più effetto che racchiuderle in un contesto mentale per poi prepararle a dire a una videocamera e a voi che mi seguite fa strano, fa davvero tanto tanto strano e quindi Baciago è ancora intervenuto dicendo io non esporrò neanche denuncia per me il caso è racchiuso ma se mi metti illegale di mezzo io ti devo controbattere, facendo i nomi e cognomi di eventuali testimoni che ci sono stati e infatti, notizia invece delle 20 e 30 si sta aprendo appunto un'inchiesta su quanto è accaduto coinvolgendo i diretti interessati più i testimoni e su questo appunto ci sarà un processo per quanto riguarda Juventus Football Club si è attivata con Paolo Montero come traghettatore ribadisco è assurdo ma si sta valutando Montero come traghettatore perché Massimiliano Allegri non finirà la stagione sulla panchina della Juventus come allenatore i legali della Juventus come dicevo prima si stanno attivando ed è per questo non è arrivato nulla di ufficiale oggi ma la tempesta è in atto e in corso questa notte ci sarà l'occhio del ciclone e domani la scarica definitiva per far sì che la Juventus addirittura ne esca ne esca quasi vittoriosa dalla situazione cioè non dovendo più esercitare alcun obbligo economico nei confronti di Massimiliano Allegri quindi non pagarli più lo stipendio per l'anno prossimo la situazione è drastica la continassa è una polveriera e non sto edulcorando il discorso è vero hanno già riportato che lo staff di Allegri si è presentato e se ne è anche uscito da lì con le cose che ok non sono state ancora dette ma sono abbastanza chiare quello che c'è stato fatto quello che è accaduto ieri all'Olimpico è qualcosa di inimmaginabile che nessuna società al mondo si sarebbe mai potuta aspettare sia per quanto riguarda un'aggressione fisica e verbale sia per l'accanimento nei confronti di un tuo superiore lo dico di un tuo capo che ok si è insediato da molto meno di te sa molto meno di te cos'è la Juve lo so che tu sei un gobbaccio lo so ci tieni tanto alla Juve mister ma a favore di telecamere compiere i gesti che hai fatto scatenando la tua ira e il caos più generale per Giuntoli non è ammissibile a questi livelli non è ammissibile uno mi domanda ma te lo aspettavi? assolutamente sì e da fonti certe che so da un bel po' che i Allegri e i Giuntoli non si riescono neanche a guardare in faccia e avere la risposta direttamente ieri sera ai festeggiamenti per una coppa io vi faccio una domanda e rispondetemi ma qualcuno ricorda che ha vinto ieri sera neanche 24 ore fa la partita di Coppa Italia? forse sì forse la Juve ma si è parlato della partita? qualcuno ha parlato di Gasperini? no Allegri sia ieri sera come in tutti i tre anni passati ha polarizzato tutti i discorsi è stato il parafulmine di ogni questione interna alla Juventus io mi sono stancato ogni volta soprattutto questa la prima in tre anni dove abbiamo finalmente vinto una Coppa Italia che non si parli più di campo è stato un continuo dimissioni di CDA durante i mondiali in Qatar penalizzazioni plusvalenze stipendi doping calcio scommesse tutto è stato fatto alla Juventus fuorché parlare di campo e una volta che si è vinto finalmente qualcosa è finito tutto in una tonnara in una cacciara che neanche nei migliori film di Hitchcock avrei potuto mai immaginare mi dispiace che un uomo intelligente come Allegri non si sia neanche preso la responsabilità di ciò che ha fatto io capisco capisco la parte umana capisco che è anche giunto lì stesso poteva evitare certe dichiarazioni Allegri il futuro con lui è la nostra punta di diamante siamo noi che dobbiamo omologarci alla sua grandezza alla sua aurea poteva evitare e soprattutto entrambi potevano assolutamente e quindi reparabilmente visto che adesso si è arrivati all'irreparabile potevano arrivare al dialogo Giuntoli non l'ha fatto perché Allegri voleva che si cucinasse nel suo stesso brodo Allegri non l'ha fatto perché pensava che portando a casa i risultati richiesti dalla società stessa non avrebbero avuto neanche il problema di sedersi a un tavolo e parlare di un ipotetico rinnovo visto che quest'anno si sarebbe iniziato a scadenza di contratto Giuntoli non ha avuto le palle? può essere Allegri poteva fare a meno di mandare i suoi scagnozzi i vari o non lo so i vari orchetti i vari sgherri giornalisti e anche procuratori vi ricordo le parole pre-Napoli di Branchini dando dello scarso praticamente aggiuntoli queste cose si possono evitare queste cose si possono evitare perché il bene della Juventus che è il bene primordiale assoluto eccentrico non esiste più esiste solo un no Allegri o un contro Allegri o si Allegri pro Allegri fanculo Allegri out in fuori finito non c'è altro e questa è la situazione marcia nella quale ci siamo trovati lo schifo di ieri sera è stata l'ecatombe ufficiale addirittura venire a pensare che un allenatore debba anzitempo finire la stagione perché ha minacciato insultato aggredito mandato a fanculo un dirigente spaccato rotto qualcosa a due giorni dalla fine di un campionato che ormai non ha più nulla da dire qualcosa di assurdo e quindi la Juventus adesso è in mano a John Elkan che è in mano ai legali un John Elkan che arrivano delle informazioni non è per usare un eufemismo contento della situazione si sono vergognati ma allo stesso tempo John Elkan nell'anno del centenario ha paura della figura lo posso dire di merda che andrà a fare per l'appunto un anno così glorioso per la Juventus cacciare un allenatore ma non un allenatore qualunque Massimiliano Allegri un allenatore storico che rimarrà per sempre nella storia della Juventus soprattutto quello che è stato fatto e vinto nell'anno del centenario tirarlo fuori a due giornali dalla fine se io Donirei del presente parlassi al Donirei del passato tre anni fa al ritorno di Allegri e potergli dire qualsiasi cosa sicuramente non mi sarebbe mai venuto in mente di pensare che il Donirei del futuro mi verrebbe a dire guarda che con Allegri non vinceremo niente per tre anni finalmente arriveremo a vincere una Coppa Italia ma quella sera Allegri aggredirà Baciago manderà a fanculo un suo superiore Giuntoli sbraiterà contro tutto l'Olimpico e verrà esonerato per condotta violenta non esonerato scusate licenziamento in tronco qui si parla di subordinazione qui si parla di subordinazione oltre che la scena di Giuntoli è un qualcosa di clamoroso io non ci riuscirei a credere ma poi a Baciago Baciago che le ha leccato il culo tutto il tempo è stato lì con lui assecondandolo e mai mettendolo in difficoltà lui Baciago e i suoi scagnozzi in conferenza stampa è sempre stato però Allegri e una volta che una persona ti muove una critica che deve essere giustificata che deve essere doverosa per tutto il girone di ritorno scevro in marcia che c'è stato fatto che cosa fai? lo aggredisci così questa è uscita la vera personalità di Massimiliano Allegri che non condivido affatto non lo condivido affatto il riassunto di questa giornata è clamoroso io non ho mai assistito a una roba del genere secondo Sky Sport secondo Nicolino secondo Di Marzio secondo Fabrizio Romano la decisione verrà presa tra domani e sabato molto più probabilmente domani perché appunto domenica ci sarebbe la conferenza ma domani verrà risolto il tutto domani bisogna capire se i legali riusciranno ed è per questo non è arrivato nulla oggi come dicevo in inizio di video se si può arrivare a una soluzione tale da poter permettere un licenziamento per giusta causa gli animi per arrivare a una rescissione consensuale o a una buona uscita non ci sono più questo è un video che uscirà stasera appunto per tutti gli aggiornamenti avuti oggi domani saremo subito svegli per tutti gli aggiornamenti montero è stato avvisato un epilogo tristissimo lo posso dire uno dei più brutti epiloghi che mai ma neanche nei peggiori film davvero avrei potuto immaginare una roba di una tristezza immonda qualcosa di raccapricciante lo posso dire raccapricciante un epilogo così scrivetemi voi ragazzi io sono sono allibito sono allibito veramente allibito per tutta questa concatenazione di eventi e di di robe che sono successe con questi messaggi che andavano andavano e andavano illegali con vocazione di Allegri tra l'altro è arrivata adesso la notizia che c'erano degli esponenti di Adidas quindi sponsor tecnico Juventus a monitorare la situazione perché ovviamente ha fatto il giro del mondo perché ovviamente la figura di merda è in bocca a tutti quindi Juventus deve pulirsi l'immagine oltre che risolvere la situazione Allegri deve pulirsi l'immagine perché c'è gente come Chiesa scusate come Ildiz gente come Cambiaso che è sponsorizzata Adidas chiaramente che deve sapere di che morte morirà perché ognuno deve sapere poi prendere le distanze che schifo ragazzi mi dispiace ribadisco per l'uomo Allegri mi dispiace abbiamo vinto tanto assieme domani avremo le ufficialità ma non mi aspettavo assolutamente un finale così brutto mi dispiace tanto ciao ragazzi un video che uscirà tardi non lo so neanche chi lo vedrà chi lo vedrà vi mando un abbraccione ci vediamo domani per gli aggiornamenti ciao